allora mi piacciono queste mie performance canora ora cerchiamo di non scivolare attenzione sono l'uomo tigre che lotta con coraggio ci sta il balletto e tu ti imbelletti ma non sei bellino allora mi è sempre piaciuto questa canzone mi sento delle onde elettromagnetiche mi sento elettrizzato dobbiamo consumare la luce o risparmiare per quanto concerne l'elettricità ha ha visto che movimento che movenza feline tu diventerai grasso come i fellini allora voglio leggere innanzitutto un pezzo no sto allestendo la recensione degli spiriti del niso qui pronteremo il tutto dopo ascolterete udirete forse qualcosa capirete imparerete ma voglio ecco e sta volando diciamo un segmento una porzione del mio libro bloney puller io non voglio morire fra l'altro su da roma presto sarà pubblicata anche la mia review di mcgray il commissario mcgray è la giovane morte che è un poliziesco francese un puller questo che cos'è un apollo che è freddo polare bisogna coprirsi io sto in ga notire allora uomini in ca notiti invecchiati precocemente calvizie incipiente allora ho diciamo evidenziato e marchiato voi stigmatizzato no vedete questo è il testo originale voi non avete testa e parlate fuori da tutti i contesti in questi giorni in continuazione viene riproposto per radio l'esaltante orecchiabile è carina sì sì mi avviso garbata indimenticabile canzone pistoler di elett lamborghini musicalità spicciola fi 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 come lei un po' trova un po' svenduto un po' bello un po' no un po' burina e bimba un po' donna anzi molto donna in quanto assai fi 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 e perciò da montare da ripiena viene citato anche il film Le Fidiole le Fidiole con Matthias Schoenerts e Adel Xeplos come? Xeplos leggete trovate anche l'audiolibro da me recitato con tutte le intonazioni e ora dobbiamo cercare di essere intonati è chiaro? ma tu parli solo di te hai castelli di carte di credito vedi tutto quello che ti chiedo promettilo siano un pacifico il filo controarti come devi sesso lo amo vero allora cambiamola siamo incantati? tu sei un disco incantato? dice sempre le stesse cose le stesse offese tu spar contro di me ma sei molto lento sei arretrato Buona Elettra? Io ho sinceramente una bottarella eh eh dimmi se sei un uomo vero un pistolero c'è il pistolino qui sai già dove mirare no è difficile è una canzonetta ma ci sta non ci sta mai ci sta postiamola dimmi se sei un uomo vero un pistolero sai già dove mirare al cuore ramona al cuore amore criminale mi chiami e non rispondo su facetime ho un bikini solo per te mano mando foto di alright non faccio mai la fila power club è un po lento però ti raggiungo dentro prima ma tu parli solo di te castelli di carte di credito mi dai tutto quello che ti chiedo prometti l'oceano pacifico ciclo artico ma dimmi se sei un uomo vero un pistolero puoi dimmi la buccia dai fai come finocchio non fare finocchio fai l'uomo vero è lento però è come te vediamo questo è più veloce come teressile se volete la rifaccio pistolero pistolero sai già dove mirare amore criminale mi chiami e non rispondo su facetime un bikini solo per te ma non mando foto di alright non faccio mai la fila però faccio la figa così per il club ti raggiungo dentro il privé ma tu parli solo di te tiè 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 vuoi dimmi una bo НА Per farmi solo tua, cercavo solo un uomo Vero un bandolero, che mi ruba l'anima in mare L'amore crimineva Te amo, te hiero, te hino Ma l'amo stoda la noce, o toda la vita Ma dimmi se sei un uomo Vero un pistolero Sai già dove mirare You're talking to me, dice a me E allora, cantiamo con Love me tender Love me too, well returned, cuore selvaggio Oddio, stavo spaccando la mano Basta adesso, per un attimo Poi, reazione, ne riammo il tutto Riavolgiamo il nastro Ok, check, action Un film d'action Sparatorie Allora Bobby Perrault Senza l'accento sulla U Interpretato da Will and the Foe Ma c'è anche Pier pelu Quello è peloso? Petto peloso, quello Oddio, un attimo L'operazione è molto difficile Come cazzo faccio adesso Con il cellulare Dobbiamo scrivere digitare Allora Mettiamo COP che cambia E sarà un interpretation un po' così Difficile questo L'audio Tu guidi l'audio O la Lamborghini Come vengono Immedesimazione in Piero D'Acto Studio Metodo Stanislavski Così, così Questa sensazione È come un treno che mi lascia dentro Senza stazione E così, no, riniziamo Come verrà questa registrazione? Questa sensazione È come un treno che mi passi dentro Senza stazione Dov'è, dov'è Il capo stazione E sto viaggiando Senza biglietto E non ho direzione E se il mio belù Alai, alai Che prendo la mia mano E mi accompagno in questo lungo Viaggiantiamo lontano Ecco cos'è Tutto il mio stupore Non è facile guardare in faccia La trasformazione È il mio corpo che cambia Nella forma e nel colore In trasformazione Adesso più anafalotico È una strana sensazione In un bagno di sudore È il mio corpo che cambia E cambia E cambia Sta morendo il suo Cambio, cambia Ehi Movimento pelvico Alla Elvis Cos'è, cos'è Cos'è E questa sensazione È come un treno Che mi passa dentro Senza stazione E tu dimmi Qual è Qual è La mia direzione E sto viaggiando Senza biglietto Nelle imitazioni Sono forte Le mie imitazioni No, sei forte Ci vuole adesso La voce un po' L'adriano È il mio corpo Che cambia È il mio corpo Ormai nel colore È la trasformazione È una strana sensazione Di un bagno di sudore È il mio corpo che cambia E cambia Voi non cambiate mai Siete molto Molto Tussi Dopo All'estero La recensione Come vi dite Di questi film non so che soldi e sapete perché siete inflacibiti e c'è la svalutazione l'inflazione lei ha commesso un'inflazione sarà punito per questa sua trasgressione svalutazione svalutazione è chiaro basta ragazzi io vi rivaluto io vi valorizzo io sono uomo di valore sono valente non sono invalido lei è uno storpio sa e la renderò ancora più stor più di quello che è io la storpio io la invalido sa io la e le spezza completamente in braccio e colla dai panzone sei troppo lento per me no